E vabbè, è bellissima come scena! Ah! 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 What the? Ah! Ah! Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccia kever 89 e siamo tornati in Swat Park. Vi ricordate? Dovevamo tornare a casa perché si stava facendo molto, molto tardi. Qua c'è un cesso incredibile e non posso tornare a casa. Quindi, vediamo un po' dove stiamo di bello. Noi ipoteticamente mi dice di tornare qua. Acci del bolino, acci del bolino. Mi fate entrare, per favore! Ma stavo tornando a casa! Ma stavo già tornando a casa, pezzi di una merda! Stavo già tornando a casa! E che cosa ho fatto? Ho salvato la terra e roba del genere. Ma io boh! Che poi, vabbè, andiamo a letto, vai! Non è che ci riepiscono di nuovo gli alieni! Il secondo giorno in Swat Park! Ah, sì, 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 sì! No, tranquillissima! Con la barba! Un bambino di sei anni, tipo! Alieni, non caca del cazzo, eh! Oh, veramente? Eh! Che cazzo è? Ma perché? Ma no, come non ci diamo? Ragazzi, ma per favore, ma perché? Ma siete tutti così carini e coccolosi? Gnomi di merda! Va bene, va bene. Io non lo volevo fare, io non lo volevo fare. Io vi do una festata all-in a tutti quanti. Oh! Cazzo! Minchia, se è forte com'è! O erano molto deboli loro, ma ho tolto 2800, ragazzi! No! No! Non mi rimpi sciolire! Oh, calma, eh! Ecco, ti pareva! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Siete degli stronzi! Io ve lo rifaccio! Io ve lo rifaccio! Voglio vedere se è forte come prima! Eh, no! Non è forte come prima mai! Ma ora sono i cazzi miei! Cosa? Ma che cazzo stanno facendo? Ma che cazzo! Piove! L'ho parato però! Oh, l'ho parato di nuovo! Ok, ci... Eeeh... Evocazioni! Eeeh... Frusta di cuoio grezzo! Evoca il signor Maso! Maso! Vai e rompegli il culo! Ma che cazzo! Ma dove c'è? Ma dove c'è? Ma che c'è? Ma che cosa cazzo ci tocca vedere ogni volta? Toppa del minatore! Quanti gnomici! Ma sì! Io gli vado a rompere il culo! Siamo dei piccolissimi! Eeeh... Andiamo a rompergli il culo tantissimo! Madonna mia! Meno male che c'avevo l'evocazione! Che poi tra l'altro ora ce le dovrebbero... Gritare! Che cos'è? Ma... Ah! Ah! Ah sì! Faccia del cazzo! Ma non me lo dite prima! Che ci stanno le trappole per i topi dentro i buchi per i topi! Che tra l'altro dovrebbero essere fuori! Che ci shottano eh! Non me lo dite! Va fanculo! Quindi? Come faccio? Ah! Ci passo vicino! Giusto? Qua non posso fare niente! Bim! Ok! Ok! Mio dio che cazzo c'ha quello? Si è preso un topo! L'ho visto io! Che poi sicuramente lo potevo shottare il topo! Perché c'era il tubo! C'era un sacco di roba! Eeeh... Mi pare che tanto sei stronzo! Allora... Io provo... A colpirlo! Oh! Oh! Un po' elettrificato ragazzo eh! Va a fuoco! Paffa! Aia! Sei un po' stronzo eh! Te lo dico! E io ti do una botta incredibile! Va bene? Uuuuh! Li tolgo! Li tolgo! Li tolgo! Non tantissimo ma... Eeeh! Eeeh! Ce la dovrei fare però è meglio che mi curo! A sto punto è meglio che mi curo un po'! Eh... Dovremmo sicuramente cambiarci... Quella brucia intanto! Ma si! Ma fottiti! Eh... Possione della salute piccola! Che tanto ci abbasta! Guardate quanto recuperiamo! Mamma mia! Vieni vieni pezzo di merda che bruci! Uuuuh! Proprio... Vaffanculo va! Vai via! D'accordo! Lal! Mi avete detto che mi sono... Ho perso la cosa! Vedete? Potevo sicuramente farlo fuori! Guardate eh! Boh! Tipo... Non lo so! Me ne vado qua! Ah! Stava rosicchiando... Robbe! Che verità! Il dono! Il dono! Il dono! E vabbè! E vabbè! Ci stanno dando giù pesante! Parecchio! Che tra l'altro si sente ovunque! Pronto! Genitori! Ma sentite come ci danno giù! Oh! E apriamo qua! Eh... No! Ah si! Vai vai vai! Ok! Abito gnomico! Oh! Ci vestiamo da gnomi! Ci vestiamo da gnomi! Aspettate che mentre loro fanno robe... Noi... Mi voglio vestire da gnomo! Dato che comunque... Ok! Abito gnomico! Olè! Ma quanti siamo bellini! Perché poi non c'ho le armature? Non c'ho niente! Cappuccio da necromante! Guardate! Ma avevano tolto tutto! Ma bastardi di merda! Guanti del necromante! Guanti del necromante! Mi metto questo! Mi metto decisamente questo! Vai! Ci siamo! Ci siamo! Ok! Senti che casino che stanno affasti due... Faccia di merda! Aspetta! Oh! Vedi? Che con calma... Si fa tutto! No! Vieni! Eh! Bastardo! Oh! Faccia di me! Aspetta! Guardate! Vediamo se... Non posso fare niente! Ok! Facciamo il combattimento! Perché se no questo non la finisce più! Apposto! Del sesso incredibile! Piccone gnomico! Va bene! Che cazzo è successo? Pronto? Ok! Mi abbiamo fatto andare sicuramente... Pronto? Madonna! È un trattore! Eh vabbè! È bellissima come scena! Ma no Guarda come si scopano quelli da due dietro Ma non mi dica che c'è anche Come sfondo del combattimento E vabbè E posizioni del Kamasutai Dai ma non ci voglio credere Ma dai Sono distrattissimo ragazzi Sono davvero distratto in questo momento Ahia infatti non mi sono neanche parato Eh si lo so ho preso fuoco Vieni qua Vieni qua Oh Oh Bruciate schifosi Sì tutti che prendiamo Ah no hanno ricambiato posizione Aia Però l'ho parato Devo cercare di non guardare Devo cercare di non È morto È morto male Vieni qua Oh Ma dai ma guarda che roba Va dai che puntata spettacolare Si stanno bombando a bestia signori Aspetta che mi prendo tutto Le mutande Elmo mutande elfiche Che cazzo Ok E si bombano ancora Si bombano ancora Ma tu sei un bastardo Ma no ma basta Ci sono dei piedi Dele tette Ma che cos'è Ma mi spiegate che cos'è Ma non posso farle vedere certe cose Ma per favore Ma basta Io ho tolto uno Perché io ho tolto uno Ma che Ma dai ma basta Ma basta Vieni qua Sto legone del Cacchio Bastardo Ma qua gli devo fare Tipo un calcio Nelle palle Aspetta Gli devo fare un calcio Nelle palle Sicuro Ragazzi Non guardate sopra Veramente non guardate sopra Calcio nelle palle tantissimo Vieni qua Uno Due Tre Però piano piano lo sto Tipo combattendo Cosa Oh mio dio Le palle Ma dai ma non ci voglio credere Non ci voglio credere Mai Intanto quello vomita Rutta Fa tutto Guarda Vieni qua Va Fa un culo Va Ma che puntata Sta puntata La puntata che riceverà più Mi piace in assoluto Di South Park Ma sicuro Sicuro Vieni qua Oh Vieni vieni Dai ora Rivomita E dovrebbe morire male No ora mi viene da dietro Guarda eh Mi ha dato un culo Mi ha dato un culo Mi ha dato un culo Nelle palle Muori Ecco Togliamo ste cose Per cortesia Che cazzo di puntata Ok Ok Cazzo Ma noi sulle palle Ma noi sulle palle Ma non gli è capitato bene A noi sulle palle Ma dai Eh terzo giorno Che culo Che bello Che cazzo di puntata La puntata più bella In assoluto Che roba Che roba E fidati non era un sogno Fidati non era un sogno Tanto ce l'ho ognometto Va bene signori Io direi che l'appuntamento di oggi Può finire qui Se il video vi è piaciuto Pollice nel su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Il vostro Il cagano89 Tieni premuto lb Scegli uno strumento A porvere finché non venire Ok Ciao